Via! Via! Madonna santissima! Via, per favore, via! Patrizia! Filippo! Fuori! Incredibile, di drammatico! Madonna! E' pazzesco! Incredibile! Correte! 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 Madonna santissima! Guarda come si muove! Tutti! Ma è rimasto qualcuno dentro! Fuori! Chi c'è? Chi c'è? Via! Fuori di qui! Fuori di qui! Passate dei pazzi ancora a rimanere! Fuori! 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 via via, andiamo qui andiamo qui, andiamo qui madonna santissima stanno cadendo tutto il cafolo sono via via vai via via madonna che sta venendo adesso, ragazzi patrice venite qua 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 fuori andiamo via andiamo via e assupa la banca Fatti sgomberati dalla zona della banca! Sgomberati dalla zona della banca! Ciao!